Dopo giorni di ansia e attesa per i numeri del contagio da Covid-19, nel nostro paese si fa spazio un po' di ottimismo. Ieri i nuovi casi accertati, in un giorno sono stati 218 contro i 224 del giorno precedente, 533 i guariti e 23 i decessi. I numeri dei contagiati si stanno stabilizzando, sono gli stessi ormai da diversi giorni. Ma è soprattutto la diffusione geografica del virus che fa dire che in tutte le regioni italiane siamo ormai realisticamente fuori dall'epidemia, ad eccezione della Lombardia, dove i numeri sono in miglioramento ma occorre ancora tenerli sotto controllo. De 218 positivi, 143 restano in questa regione, anche se va detto che tra questi 64 sono riferibili a test sierologici e complessivamente 83 sono i cosiddetti debolmente positivi. Altro dato importante è quello relativo al numero dei deceduti, che in Lombardia non è mai stato così basso, con solo tre vittime registrate ieri e 23 nel resto d'Italia. Ottime notizie anche dalle terapie intensive che si stanno letteralmente svuotando, nessun paziente in nove regioni più la provincia di Trento. E mentre la Lombardia ha chiesto all'Istituto Superiore di Sanità di introdurre nel bilancio dei casi una netta distinzione tra i debolmente positivi e i casi più gravi, A Venezia è andato in scena uno scenografico omaggio dei vogatori davanti all'ospedale di Venezia, che con la tradizionale alzata di remi hanno voluto ringraziare il personale sanitario per l'impegno profuso in questi mesi di emergenza.